Ragazzi, se ne è appena andata una cliente, sono morto dalle risate. Io penso che la scena sia andata pressa poco così. Oh, salve, buonasera. Sì, salve, buonasera, mi dica pure. Senta, le volevo domandare, per caso avrebbe i frutti di bosco? Sa quelli con l'arancia? Eh, ma mi scusi, ma l'arancia non è un frutto di bosco? Beh, sì, lo so, è ovvio. Ok? What the fuck?